Era un tema per pochi addetti ai lavori. Le vicende odierne dimostrano che la solidità della banca è un tema non di addetti ai lavori, ma per chiunque abbia qualche risparmio, sia anche una microazienda, è un tema di attualità per tutta la parte. Quindi il mantenimento del radicamento delle persone sul territorio è dall'altra parte un gruppo assolutamente solido e appena vagliato e stravagliato dalla piscina per facilizzare la piscina. Grazie.